Caccinga! Mica con Grace Kelly e nel frattempo anzi ringrazio chi al 3317853555 ci sta scrivendo come in questo caso ad esempio Fabrizio che ci scrive buongiorno Fabio buongiorno Cristallini finalmente venerdì posso chiederti di salutare una mia cara amica e collega con cui sto condividendo un bel progetto ma certamente allora lei si chiama Gaia così mi dice Fabrizio ma soprannominata Gaia la principessa di Baggio io come faccio a non salutare una che si chiama la principessa di Baggio ovvio che la saluto grazie mille perché sappiamo che in questo momento ci stai ascoltando in coda sulla tangenziale Ovest cosa che accomuna molti i nostri ascoltatori potremmo veramente sponsorizzare qualche chilometro di coda sulla tangenziale Ovest grazie al Dub Plus e oltretutto prima dicevo che appunto con il Dub Plus ci portate ovunque in Lombardia ieri vi ho ascoltato tranquillamente fino a Fidenza ecco vedi grazie Fabrizio da Opera che ci dice anche fin dove arriviamo col segnale benissimo perfetto grazie mille è venerdì e ogni tanto al venerdì viene a trovarci la nostra grandissima ospite che è Silvia Gatti buongiorno 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 state sedute state seduti tranquilli e tranquilli c'era già la standing novation certo senti gli applausi saluto la principessa di Baggio in quanto io sono principessa di Lambrate la principessa sai che c'è il puma di Lambrate Fabio Treves Fabio Treves è il puma di Lambrate viene chiamato allora da oggi Silvia Gatti la principessa di Lambrate e che princess perfetto perfetto diciamo bene oggi quindi si parla di principesse va bene facciamo le principesse Disney oggi no non proprio non proprio non proprio Silvia come sempre ha questo bellissimo vizio di portarci dei degli ospiti molto molto interessanti quest'oggi parliamo di qualcosa di particolare ma non perché sia particolare in sé ma perché è stata proprio una bella idea e uno sviluppo di un'azienda fondamentalmente che ha trovato una cosa interessante da fare abbiamo al telefono Valentina di Noibuer buongiorno Valentina ciao buongiorno Silvia grazie di avermi invitato figurati è un piacere grazie a te di avermi spiegato cose che assolutamente non sapevo o che sapevo ma spiegavo male io e grazie perché adesso fra poco le spiegherai ai nostri ascoltatori e anche a Fabio Valentina che cos'è Noibuer? Allora Noibuer è un brand che è stato creato diciamo quest'anno noi siamo abbiamo fondato il brand l'anno scorso ma siamo online effettivamente sul mercato da tre mesi quindi siamo proprio nuovi di zecca e noi facciamo biancheria intima funzionale nella fattispecie noi ci rivolgiamo a persone trans, queer, gender non conforming e non binarie la biancheria funzionale è una roba che sembra una cosa strana Sì ci avevi mai pensato Fabio? Ieri Valentina mi diceva c'è anche su un video su Instagram cioè ricordiamo l'account di Noibuer su Instagram anche poi diremo anche altri social che è facile per noi mettere la mano in un cassetto e tirare fuori un reggiseno comodo degli slip comodi, dei boxer che abbiamo scelto con facilità e invece Valentina non è così per tutti o per tutte Per le persone transgender non è così semplice No, esatto, esatto, in realtà guarda la biancheria funzionale significa soltanto biancheria che svolge una funzione però per le persone cisgender questa è una cosa facile cioè un reggiseno a balconcino svolge la funzione di far sembrare il seno più in alto rispetto a dove è naturalmente e quella è una roba che tu trovi in qualsiasi negozio Ripetiamo Vale, cisgender, che cosa si intende per persona cisgender? Allora, diciamo dal latino Adoro Dal latino cisgender, cis e trans sono due particelle latine per cui cis significa al di qua, cioè dalla parte di chi parla e trans significa dall'altra parte rispetto a chi parla quindi come le Alpi cisalpine il versante di qua e le transalpine Transalpine, è vero, transalpine In geografia sono bravo, in latino no E quindi fondamentalmente l'idea è la stessa Una persona cisgender sta al di qua, diciamo, dello spettro del binario quindi si identifica con lo stesso sesso che gli è stato assegnato alla nascita Quindi, che ne so, il dottore a me mi ha guardato da piccolo e ha detto si chiamerà? È una bambina E io effettivamente concordo e quindi sono una persona cisgender Se io invece avessi detto, no, io non mi riconosco in questo genere questa non sono io voglio fare dei cambiamenti a quel punto sarei una persona transgender quindi dall'altro lato rispetto Al tuo genere, diciamo Al mio, esatto Come nasce Noibware? Ci hai pensato? Perché? Infatti, è questo che mi chiedo Perché per noi è complicato capire Adesso lo dico brutale Vado in un qualsiasi grande magazzino tiro sul primo pacco di mutande che trovo e sicuramente va bene Sì, non hai difficoltà Al massimo sbaglio la taglia Ma chi se ne frega c'è non è quello E invece non è così È proprio questo il punto Io in realtà sono una che non Io non penso neanche alle mie di mutande Io penso alle mutande degli altri a volte Ma questo è una libia A quelle degli altri Il punto è che mia moglie è una donna trans Ok E quindi il problema era Io l'ho vista in casa Certo, vivere questa cosa E non si trovava Era scomoda Non le piaceva particolarmente Quello che trovava nei negozi Allora, sì Quello che trovava nei negozi Ovviamente non andava bene Assolutamente Perché se tu vai in un negozio qualsiasi In marche, grandi, piccoli Quello che è Compri una biancheria da donna Però la tua biologia Ha pene, testicoli, eccetera Anche se tu la taglia, la indovini Quando poi le mutande te le tiri su Ti scappa tutto da tutte le parti Non va bene? Diciamo proprio come È così È così Pensateci Cioè come deve essere E la nostra Valentina ha detto Mo ce penso io Aspetta Esatto Basta Mo le mutande te le faccio io E quindi hai deciso appunto di creare questa linea Ma non sei da sola Perché hai trovato No, non sono da sola Delle risposte molto positive intorno a te Quindi tu hai altri quattro soci Esatto Siamo in cinque Siete in cinque È una start-up giovanissima Ma già mi dicevi Con delle risposte entusiaste quasi Molto Sì, molto positive Sì, sì, sì Molto positive Stiamo avendo un grande seguito Per essere così nuovi Devo dire Io sono molto felice Fra l'altro siete in tre in Italia Ma le altre non sono delle start-up Giusto Sono delle società gestite da singole persone Mi dicevi Esatto, sì Sì, sì Ed è più difficile Sono delle società singole Sì, immagino di sì Nel senso che Essendo strutturate Come il tipo di età individuale Chiaramente Immagino Abbiano altre difficoltà Rispetto a quelle che possiamo avere noi Essendo in cinque Chiarissimo Valentina, allora io ti chiedo di rimanere ancora un attimino qui con noi Adesso ci ascoltiamo un brano E poi torniamo perché voglio capire bene appunto Anche come ha reagito il mercato da una parte Ma anche mi immagino La prima volta che sei dati magari Non so Una start-up Andrei in una banca a dire Scusate avrei bisogno di un presto No, non l'hanno fatto Vorrei capire come hanno risposto Quando Le start-up fanno i pitch Fanno i speed pitch Vorrei capire come ha reagito la gente Quando gli hai parlato Allora salve Questa è una mutanda E da lì si ha aperto un mondo Valentina ha messo tutti i suoi risparmi In realtà il problema c'è stato con le società che dovevano produrre Allora me lo racconti adesso Vale Andiamo con Angelina Mango E poi voglio appunto capire come è risposto il mondo a questo punto A questa vostra geniale idea Angelina Mango con La Noia Total Angelina Mango La Noia Alle 8.22 Qui su Crystal Radio Con Silvia Gatti Silvia è arrivato anche un Bello whatsappino per te Da Alberto Che dice un saluto particolare a Silvia Buon weekend anche a te Ciao Alberto Conosciamoci Non so Credo si sia sposato Ok scherzo Silvia Gatti qui con me Parliamo sempre di Gatti Anche con il nostro collegamento Perché abbiamo Valentina della Gatta Tra parentesi abbiamo scoperto di essere tutti e tre allergici ai Gatti Tutti e tre allergici Infatti Va bene Valentina ancora qui con noi Ci sta parlando di Noibware Grazie a te Silvia che ci hai portato questa ospite Parlarò appunto di questa Startup Io voglio sapere un po' la risposta poi Del pubblico da una parte Ma del mondo dall'altra parte Appunto le start up so che girano tanto Vanno a fare gli speech E tutto Quando tu incominci a raccontargli la vostra storia Vorrei vedere gli occhi di chi vi ascolta Sì è abbastanza È un po' complesso Diciamo Noi Per fortuna Diciamo abbiamo avuto il privilegio Per ora di non dover andare in banca A farci aiutare Insomma Quindi fare un pitch in banca E spiegargli Però La difficoltà in realtà Che abbiamo avuto È stata a monte Nel senso che Quando abbiamo dovuto trovare L'azienda Che ci producesse effettivamente La biancheria Noi andavamo Salve buongiorno Vorremmo fare questo Questo Quest'altro Per trasparenza Vi diciamo che La nostra utenza Quindi il pubblico di riferimento Sono queste persone E le aziende Spesso si tiravano indietro No no Noi Non vogliamo avere niente a che fare Non vogliamo associarci Non vogliamo Beh insomma Non male Perché se andavo a chiedere Io credo che se andavo a chiedere Invece finanziamento Per fare merendine Per far diventare grassi i bambini Me li danno subito Sì Quindi quello non è un problema Assolutamente Invece fare delle mutande Delle mutande per tutti Invece è un problema Ma ci rendiamo conto Non male Vale non è solo Questo Cioè questo succede Magari in Italia Perché abbiamo anche Io mi auguro che succeda Sì Nel meno posti possibile Però Però mi dicevi Che ci sono dei mercati Che invece guardano proprio Il soldo E non sono interessati Al tuo Al pubblico Al quale puoi riferirti Ti dicono Sì ok Bella lì Facciamo questa cosa Anzi che magari è innovativa Anche perché insomma Immagino che il pubblico esista Cioè Stiamo parlando di Di numeri importanti Guarda Esiste Esistono in realtà Delle ricerche demografiche Che sono state pubblicate Nel 2023 E anche nel 2021 Su scala mondiale Quindi la popolazione Di persone Trans Queer Non binaria Gender non conforming In una popolazione data Di solito è circa Al 2-3% Ok Che è più o meno Come le persone Con gli occhi verdi Ok Stavo dicendo Mi hai anticipato Sto dicendo È come prima o meno Le persone con i capelli rossi Che so che era A quel tipo di percentuale Che quelli però Sono lo 0,6% E quindi però sono lo 0,6% Ecco Vedi te Vedi te Vedi te Vedi te Purtroppo ci sono dei pregiudizi Valentina E ancora oggi La persona Transessuale Non si dice Transessuale Si dice Transgender Perché Transessuale È dispregiativo Oltre che desueto Quasi dispregiativo Le persone Transgender Vengono associate Spesso Alla prostituzione Che è una cosa Assolutamente Da cancellare C'è uno stigma Bravo Fabio Vero Valentina E non ci nascondiamo Dietro a un dito Se si usa la parola Keyword Esatto Trans È una delle Banalmente Se vai sui siti Pornografi Cioè YouPorn Pornhub Eccetera E cerchi Sai se esistono le categorie Cerchi la parola Trans Qualsiasi Cioè In Italia È la parola In assoluto Più cercata Capito Allo stesso Quindi questo Nel mondo Diciamo Di quello Che le persone Vogliono guardare No Con Un po' Con Con l'aspetto morboso Sì Ok Come oggetto Sessuale Però allo stesso tempo Come soggetto attivo Parte della società Invece Vieni Discriminato È uscita Una notizia di ieri Forse l'avete vista Di una persona Transgender appisa Che è andata Dal datore di lavoro Dicendo che voleva fare Un percorso Di affermazione di genere E è stata licenziata In Trump Sì Non è la prima Purtroppo Non è la prima C'è stata Chloe Bianco L'anno scorso Cioè esatto E quindi Dal punto di vista Di oggettificazione Queste sono persone Che vengono Molto oggettificate Ipersessualizzate E però poi Dal punto di vista Umano Ci sono stati dei suicidi Ci sono stati molto Sì 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 Vabbè Credo che sia interessante Infatti L'operazione che fate Non solo appunto Per dare una comodità A queste persone Va benissimo Ma anche per comunque Appunto Farne parlare sempre di più Anche in altre circostanze Quindi non solo Nella circostanza drammatica Invece che può esserci O la notizia drammatica Del suicidio Della persona Che non viene accettata Della discriminazione Sul posto di lavoro Che sappiamo essere All'ordine del giorno Per persone Transgender Per donne Che rimangono incinte Cioè sappiamo che Lì anzi È un mondo molto ampio Ma invece Parlarne semplicemente Per la comodità Di vivere una vita comune E comoda Scusate Tutti i giorni È interessante Perché davvero Ricominciamo a parlarne E farlo entrare Nel nostro quotidiano Anche il tema E quindi l'importante è quello La vera domanda è Tu sei mai uscito di casa Senza mutande? Io no Ecco Allora Qui ci ne abbiamo tutti bisogno Qui si apre un discorso Attenzione Attenzione Valentina In questo momento So che c'è gente Che sta ridendo So che in questo momento C'è gente che sta ridendo Come la matta Perché sanno Le mie abitudini estive È andata così Valentina Ok Standard Adesso riciradrizziamo Un secondo E dalle mutande Del direttore Fabio Alla Un po' di chiarezza Attenzione In studio La metto sempre Grazie Quando sono più in studio È bello sapere È bello sapere Si parla tanto di parole Dell'importanza delle parole Di usarle correttamente Abbiamo detto Che la parola transessuale Non si deve usare Il termine giusto è Transgender Transgender E poi si dice tanto M to F F to M Cioè Da maschio a femmina Da femmina a maschio E però questo presuppone E questo è il motivo E questo è il motivo per cui Ora si usano le espressioni Non so per anello i gusti Speriamo porti le mutande Almeno lui Il whatsapp dopo Qua che te lo leggo E dice Valentina Ora ci mette giù È una bella È una bella sensazione Effetto Elicottero garantito Va bene Ok Passiamo alla musica Perché Sento già Elicotteri arrivare Questi sono i tuoi spasimanti Valentina Mi spiace Lo sapevo Non c'è problema Non c'è problema Andiamo avanti con la musica Valentina rimani con noi Perché poi torniamo ancora qui A parlare di Noi Beware Adesso è Gali Con Casa Mia E questa era Emma Con Pezzo di Cuore Insieme ad Alessandro Amoroso Il grande duet di Emma Insieme ad Alessandro Amoroso Che featuring Che featuring Quel featuring di cui Non sapevamo di aver bisogno Mi verrebbe da dire Comunque Andiamo avanti Andiamo avanti Con i nostri ospiti Qui con me in studio Silvia Gatti Ciao Collegata E invece Al telefono con noi Valentina Della Gatta Di Noi Beware Yes Biancheria Intima Comoda Bella Per tutte e per tutti Ci sta Vale? Sì Sì direi di sì Abbiamo parlato Delle difficoltà Che avete avuto Come start up A trovare qualcuno Che producesse Questa biancheria intima Abbiamo però detto Anche che avete avuto In soli tre mesi Una risposta Molto positiva Infatti Avete chiesto aiuto A influencers E content creators Voi avete Ricordiamolo Una Account Una pagina Instagram E una su TikTok E ho visto i video Appunto Di persone Che utilizzano Appunto La vostra biancheria E sono veramente Contenti Vero Vale Sì Noi abbiamo Allora guarda Noi abbiamo Veramente fatto Del nostro Meglio Per fare Questi prodotti Che dovranno essere Proprio I prodotti Dei nostri sogni Il binder È stato Creato In collaborazione Con la salvavoce Che per quello Che ne so io In Italia È l'unica Vocal coach Che si rivolge Alla vocalità Transgender Ed è una cantante Anche quindi Fondamentalmente Questo binder È stato Disegnato Prototipato E modificato Cento volte Perché Lasciasse le costole Libere Per la respirazione Corretta Lasciasse libero Il diaframma Valentina ricordaci bene Cos'è il binder Il binder È un Immagina come Un top sportivo Ok Quindi è un pezzo Di sopra Che serve Per l'appiattimento Del tessuto mammario Ok Però solo il tessuto mammario Cioè la parte molle Ok Perché non deve Schiacciare le costole Deve fare in modo Che tu possa Comunque respirare liberamente Certo Non è una fasciatura appunto No non è una fasciatura Quindi fondamentalmente Come fai A metterti addosso Una roba Che schiaccia soltanto Il tessuto molle Ma non insiste Sulla gabbia toracica Ho la risposta Ho la risposta Si va da noi Buer Certo Esatto Giusto Ma c'è una ricerca Pazzesca dietro Anche a questi capi Sì Ogni capo Sai Viene Viene creato Poi viene Il prototipo Viene testato A quel punto Si fa Dice ok Mi tira qui Qui non va bene Qua fa la piega Ok Ne rifai un altro E di nuovo Cioè la prototipazione È un processo Molto lungo Dopodiché Quando trovi Il prototipo finale Che dice Ok lo voglio così Il processo Prevede un focus group Quindi noi abbiamo trovato Degli utenti reali Che per un mese Alcuni anche due mesi Hanno indossato I nostri capi Ovviamente a titolo gratuito Quando ce li hanno ridati Ci hanno dato anche Un feedback estensivo Dove ci dicevano Ok mi sta bene Mi sta male Mi sta comodo L'ho lavato E continuava a performare Correttamente Eccetera eccetera E quindi noi A posteriore di tutto questo Abbiamo mandato I capi in produzione Chiaro Produzione che è semplicissima Immagino vero? Come no? È stato difficile Trovare chi produca Chi può produrre I capi di noi Sì abbiamo mandato Guarda Senza esagerare Almeno avremmo chiamato Trenta aziende in Italia Ah però Tra email Telefonate Ogni volta che dicevamo Che la nostra utenza Era parte della comunità LGBTQ In particolare persone Diciamo trans In senso ampio Si tiravano indietro E dicevano No guardate No Ma che gli frega a loro? Cioè quello che non capisco Gli frega quando digitano Su Google Gli frega molto lì Anzi Su soldi Io onestamente Pensavo Che all'interno Di una società capitalista Sai io ti pago E tu mi dai quello che voglio Posso dirlo Valentina Cioè il capitalismo Ci delude anche su questo Cioè per una volta Che speravamo nel capitalismo Invece Nera anche qui Questa volta Cioè In realtà Il punto è che Le persone Sono molto legate Ai propri valori Ok grazie Ottima cosa Però potete essere legati A dei valori migliori Magari Però li avete trovati Alla fine giusto? Sì sì Allora facciamo i complimenti Facciamo i complimenti Facciamo i complimenti A chi ha avuto Non il coraggio Chi ha avuto L'idea di dire Ma produciamo Cioè produciamo Sì esatto Le cose le facciamo Per tutti Cioè gli esseri umani Sono esseri umani anche loro Capito? Ma cosa dobbiamo arrivare a dire Ma vi rendete Comunque Vale Ordino su Noibuer Mi arriva a casa Però vivo con i miei Vivo con qualcuno Che non sa Che comunque Io utilizzo Questo tipo di biancheria E non sai perché Anche qui c'è Privacy e discrezione Spiegaci Assolutamente sì Il pacco Non è brandizzato Quindi il pacco è anonimo C'è il mittente Il destinatario Ma è tutto lì Quindi il pacco Non è brandizzato Né fuori E neanche dentro Ah quindi Controli Legge del marketing Sì Perché Spesso si curiosa Arriva un pacco a casa E qualcuno lo apre Anche se è per te Qualcuno lo apre Lo apre tua mamma Lo apre tua nonna Lo apre La nonna potrebbe scoprire Un mondo nuovo Effettivamente Dove essere Divulgazione Però sai che cosa Ci sono molte famiglie Che non sono Diciamo amichevoli Assolutamente In queste situazioni È pericoloso anche Addirittura Può diventarlo Non solo per le persone Maggiorenni Che magari vivono ancora a casa Che magari Facciano l'università O i primi anni Sul lavoro Però soprattutto Le persone Più piccoline Che sono magari Ancora minorenni Ma hai già 17 Capito 16 17 anni È stato Appena sbattito fuori Guai al mondo Che ti buttano fuori Di casa È successo Un ragazzo Che sta per fare la maturità Ed è stato accolto Dal professore È fuori di casa Siamo che a Milano Esiste una casa Che accoglie Sì Le case di fulgo Anche a Roma C'è il punto Che questa cosa esista Allora È È fantastico È bellissimo Meno male che ci sono Ma allo stesso tempo È una disgrazia Mai bisognerebbe buttare fuori di casa Nessuno Nessuno A prescindere da Da qualsiasi cosa Valentina Si pensa Ok Vuoi diventare una donna Vuoi diventare un uomo Scusami la schiettezza E si pensa che quindi Bisogna subire le operazioni Quelle adatte per Rimuovere il seno Una Come si chiama Vagginoplastica Ho detto correttamente Non è così Perché Valentina Mi dicevi Non tutte le persone Hanno voglia O l'esigenza Di sottoporsi A delle operazioni Che durano anche Ore e ore Quindi Spiegaci meglio Allora Dunque Il motivo per cui Le persone possono decidere Di fare Un percorso Medicalizzato Diciamo dal punto di vista Chirurgico È per una questione Legata a Si chiama Disforia Quindi è un malessere Del fatto di vedersi Con delle parti del corpo Che le fanno Le fanno stare male Sì Quindi Immaginiamo che io dico No io Il petto così Non ce la faccio a vedermelo C'ho questo seno Non ce la faccio Ma voglio toglierlo E decido di fare Ok Magari Quella che si chiama Top surgery Sì È una chirurgia Estensiva Però metti caso Che io magari Che ne so Sono allergica All'anestesia O c'ho paura Di andare sotto i ferri Non lo faccio Certo Ma non per questo Sono meno uomo O meno donna Esatto Non sono Cioè La mia identità È valida Indipendentemente Da quelli che sono I miei genitali Indipendentemente Dai vestiti che mi metto Indipendentemente dal fatto Come porti i capelli Se mi trunco Se non mi trunco Se mi metto lo smalto Se mi Non lo so Perché si pensa La persona Prescinde Da tutto quello Che è intorno E non bisogna Pensare a Ok Sei femmina Allora devi essere Iper femminile Vuoi essere un maschio Allora devi essere Iper maschile Iper Esatto Invece non è così Ma non è così Neanche per le persone Cisgenze Assolutamente Esatto Pensando a questo Cioè Basta guardare me Va bene Non è che sono Iper maschile Come dire Non è che sto stommaggio De maschio Cioè Chiunque di noi Ha le sue sfumature E bravo Hai detto bene Le sfumature Molte volte si pensa Invece che non esistano E bisogna Andare da Da A a B Ma noi abbiamo ancora La società è molto binaria È molto binaria Sì Pure non fare la femminuccia Non piangere Come le femminucce Esatto Corri come una femminuccia A me è sempre Tu provi a pensare Alle persone che hanno Le fobie Sui tessuti Se sei un maschio È rosa No È rosso No È quello No È tessuti Conglorati No Io sto benissimo Con la camicia rosa Ad esempio Ho scoperto negli anni Ma ci ho messo anni Ad accettarlo Perché era rosa Perché era rosa All'inizio facevo fatica Ma io stavo Me la metto Per fortuna Stiamo veramente cambiando Poi invece Per fortuna Insomma si cresce E si capisce Che stavo anche bene Quindi perché non metterla Hai capito Sì esatto Ma qui non è la camicia rosa Che ti rende Meno O più Di quello che sei Cioè È un tessuto Non morde Capito Non è Cioè È un pezzo di stoffa Il tessuto non morde Mi sembra Usatelo come slogan Che potrebbe essere Interessante Ma a volte Puoi mordere il tessuto Me lo segno Bella E Noibware resiste Infatti 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 Esatto Diamo tutte le coordinate Allora Silvia Perché siamo quasi in conclusione Quindi Sì Allora Trovate Noibware Scritto N O I B Wear W No E con la Y No No N O Y B Wear W E A R Sia su Instagram Che su TikTok Signori Vi presento Silvia Gatti C1 in inglese Eccola qua Mamma mia E Fra poco Sulla pagina Instagram Di Noibware Verrà annunciata Una sorpresa Annunciazione Esatto Vale Hai parlato anche Alla Sapienza C'è stata Giulia Delellis Perché non Valentina Delellis Noibware Spero di fare meglio Ma sei già stata giusto O ti hanno invitato No C'è settimana prossima Settimana prossima Cosa devi raccontare Allora Ci hanno invitato Alla Sapienza A un master di secondo livello A parlare proprio di Noib Sì Quindi della nostra esperienza Diciamo di start up Di quella che è La prototipazione Quello che Sono i passaggi Che richiedono Creare un capo Di questo genere Da zero Quindi ex novo E fondamentalmente Di tutto quello Che è Il contesto Legato All'abbigliamento E alla genderizzazione Dell'abbigliamento Quindi i pantaloni da uomo I pantaloni da donna Le camicie da uomo Le camicie da donna Cioè Il fatto che Dei vestiti Che è soltanto Una roba di stoffa Abbia tutte queste implicazioni Sì Sì Ti aspetti Cosa ti aspetti Da questo pubblico In chiusura? In realtà Visto che è un pubblico Giovane Perché le persone Che frequentano il master Avranno 25 30 anni Cioè Saranno giovani Sì In realtà Mi aspetto Mi aspetto Molta accoglienza Devo dire Sì Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace anche La speranza Nell'uomo Nel genere umano Nell'umanità Che ha comunque Valentina Nonostante tutto Ha questa speranza Quindi grazie anche Grazie Di questo messaggio Di speranza Valentina Va bene Grazie a voi Senti Silvia Io ti ringrazio tanto Per questo ospite È stato molto interessante Valentina Seguite appunto Noibware sui social N O Y B Grazie mille Valentina E allora anche In bocca al lupo Per la sapienza E anche per questo Annunciazione Annunciazione Che arriverà Tra poche ore Grazie infinite a voi Ciao Grazie mille Valentina Grazie mille E allora Silvia Noi siamo quasi In chiusura Abbiamo parlato A punto di intimo Andiamo con un po' Di musica Abbiamo parlato Di gente che si mette Non si mette le mutande Per chiuderla Proprio bene Mi raccomando Se mettete una tuta Sotto mettetevi le mutande Fabio No perché va Mahmood Con tuta gold Per quello Ah scusami Ah ok Che collegamento Già avete il coraggio Di mettervi una tuta gold Che insomma ci vuole coraggio Bellissima Però ci vuole coraggio No no Io non mi ci vedrei Venerdì prossimo Camicia rosa sì Ma tuta gold io non ce la faccio Tuta gold tu Perfetto Importante comunque Sotto la tuta Vi mettiate le mutande Mi raccomando Per favore Andiamo avanti Mahmood con tuta gold Grazie a tutti